Dopo la versione 2017 di Vista Studio naturalmente ci aspettiamo un aggiornamento ed ecco a voi l'edizione 2019 che verrà presentata ufficialmente da Microsoft il 2 aprile. Quindi se volete in anteprima darci un'occhiata sono già disponibili le preview di dicembre scorso, la versione RC ovvero la Realist Candidate finalmente è pronta. Per fortuna queste preview potranno essere installate in maniera affiancata a Vista Studio 2017 senza dover disinstallare quest'ultimo. Non vi sto a delencare tutte le novità aggiunte perché ce ne sono diverse ma di sostanziale gli sviluppatori potranno aspettarsi un refactoring migliore, una navigazione più snella, nuove funzionalità nel debugger, un caricamento più rapido delle soluzioni ed un rilascio più frequente delle build e degli aggiornamenti. Una cosa che mi piace davvero tanto è GitHub che sarà ancora più implementato dal fatto della recente acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft. In descrizione a questo video trovate maggiori dettagli dell'evento di presentazione dove potrete partecipare gli incontri anche nella vostra zona. Lascerò sempre in descrizione i siti per poter scaricare le versioni se vogliamo chiamarle beta ed anche la candidata per la versione finale. Inoltre vi allego un video direttamente dal canale YouTube di Vista Studio in cui potete vedere diverse novità come la nuova schermata start e un restyling dell'interfaccia. Inoltre vi allego un video